Questo riduce quello che è il movimento su scena, non hai più bisogno di fare il mato di Marlechino e saltare come un pazzo per farti capire da tutti quanti, ma passi attraverso un altro sistema di codici su questo. Questo però riduce il lavoro dell'uomo, dell'attore, dell'attrice, di un pacocentro. E quindi nasce anche questa esigenza di ritrovare una forma di teatro totale e quindi Maier ricomincia a lavorare sul posto, questo qui. Quindi vuol dire che si ritornano a quello che può essere cercare dei tipi capaci di rappresentare tutta la società in non solo una classe sociale, che era come è la parte che mi ha formentato totale, e l'utilizzazione del corpo dello spazio come era una volta. Quindi vuol dire ritrovare il sistema italiano di rapportarsi con quello che è lo spettatore. Quindi vuol dire trovare dei codici attraverso l'utilizzazione del corpo universale per farsi capire da tutto il mondo. Quindi vuol dire rimettare il corpo a disposizione di codici per farsi capire, per la comunicazione.